Affari tuoi, è cosa nota che dalla prossima stagione ci sarà Stefano De Martino dopo l'addio di Amadeus alla Rai. Ma no, questa non è l'unica novità della nuova edizione del Gioco dei Pacchi, amatissimo dal pubblico di Rai 1. Edizione nuovissima, perché cambia praticamente tutto. Intanto quando torna in onda il Game Show, la data di avvio è prevista per lunedì 2 settembre. Ma i telespettatori si troveranno di fronte a un nuovo programma, un nuovo logo, un nuovo pacco e regole diverse. È stato proprio il nuovo padrone di casa, prontissimo all'esordio, a svelare queste curiosità al sito di Davide Maggio. Intanto, come anticipato, saranno diversi i simboli della trasmissione, ossia logo e pacco. Ad Affari tuoi rivedremo sicuramente la vecchia e iconica scatola celeste, chiusa da un laccio e sigillata con la ceralacca rossa. Solo lo scorso anno Amadeus aveva pensato a un taglio più moderno, ma ora sono cambiate nuovamente le cose, come vedete nella foto. I pacchi saranno però come sempre 20, in rappresentanza delle regioni d'Italia e con un valore da 0 a 300 mila euro. Alcuni potrebbero però contenere degli oggetti e anche la posizione nel tabellone varierà di puntata in puntata. Nel momento in cui al termine della partita il concorrente vincerà un oggetto, questo sarà riconosciuto dalla Rai con un equivalente in gettoni d'oro. Per quanto riguarda le regole del gioco di Affari tuoi, nel corso della partita il conduttore Stefano De Martino avrà modo di comunicare con il concorrente, mediante il dottore, attraverso la scelta di due carte coperte. La prima nasconde «Cambio», mentre la seconda «Offerta». Le carte verranno consegnare al conduttore a inizio partita, secretate e rese identiche, almeno all'apparenza, tra loro. Il gioco in sé resta quello di sempre così come la possibilità di concludere la partita alla regione fortunata, nel caso in cui il giocatore dovesse restare con due pacchi molto bassi. Ricordiamo che con la regione fortunata si possono arrivare a vincere 100 mila euro al primo tentativo, 50 mila al secondo. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.